Come è la situazione attuale? Come è la situazione che va analizzata nel dettaglio, nel senso che la crisi c'è, si vede, si sente, però sono dell'avviso che bisogna comunque andare un po' contro tendenza e continuare a investire, andare alla ricerca di nuovi mercati, nuovi operatori e continuare su questo passo. Sicuramente è vincente la cosa. Sarà un 2013 difficile ma non impossibile secondo me, per cui vale la pena. Il vostro settore è un settore che per antonomasia guarda all'estero sostanzialmente, quindi è un settore che vive di immagine, vive di reputazione in qualche maniera. Quanto è importante oggi la brand reputation online? È fondamentale. Noi siamo molto attenti anche a quello che scrivono i nostri clienti, anche nei vari social. Ci teniamo anche lì a investire. Non a caso adesso ci siamo affidati a una società che curerà tutta la comunicazione e il marketing proprio perché bisogna uscire in maniera corretta ed efficace per rispondere ai nostri clienti, ai commenti ed essere poi soprattutto propositivi e trovare l'occasione per vendere ancora di più e meglio. Certo perché di fatto è cambiato il mercato dal punto di vista economico ma è cambiato anche dal punto di vista del target e dell'utenza perché c'è una nuova generazione di viaggiatori, quindi da voi non si cerca più un semplice alloggio, si cerca un'esperienza di soggiorno, no? Chiaramente sì, è un'esperienza che deve soddisfare a 360 gradi le esigenze di tutti questi internauti, non so se è corretto, ma sì bisogna essere molto smart, molto attenti appunto alla tecnologia su cui anche noi stiamo investendo parecchio. Molto innovativi, noi la lasciamo andare via perché sappiamo che è impegnatissimo, però le chiediamo di chiusare per i suoi associati un monito da lanciare da qui dal TTG di Rimini. Ma investite, abbiate fiducia, coraggio che sicuramente chi ha un po' di lungimiranza riuscirà a venirne fuori senza problemi secondo me. Grazie al Presidente Cristian Zingarelli, buon lavoro. Grazie mille, grazie a voi.